Complimenti per la vittoria, il primo set è abbastanza agevole, il secondo è un po' più complicato. Sì, al comienzo della partita ho giocato molto bene, ho stato giocato più forte. Dopo la tele ha giocato bene, è difficile giocare con l'altura. Il primo partito è sempre complicato. Quali sono le tue aspettative per il proseguimento del torneo? Il prossimo turno è difficile, Pablo Cuevas e Enrique Lopez sono due grandi giocatori e devo fare lo migliore possibile per vincere questa partita. Come ti trovi in questo posto? I bambini oggi hanno fatto il tifo per te? Sì, sì, stanno facendo il tifo per me. Sempre molto comodo quando la gente viene a tifare le partite, tutti le partite. Sono molto contento. Grazie mille. Grazie. Grazie.